Buongiorno, io sono Brunella Gerla e mi occupo di orientamento per il corso di laurea in informatica dell'Università degli Studi dell'Insubria. In questa presentazione voglio offrirvi un po' di informazioni sul nostro corso di laurea in informatica, in genere su cosa si studia in un corso di laurea in informatica e come siamo organizzati all'Insubria. Il nostro corso di laurea in informatica è presente nelle due sedi di Varese e di Como. Le informazioni che darò adesso valgono per entrambe le sedi. Dobbiamo chiarire prima di tutto che cos'è l'informatica. La parola informatica chiaramente si sente molto spesso in diversi ambiti. Qui possiamo vedere per esempio alcune dei contesti in cui si parla di informatica, però dobbiamo sapere che non sono tutti questi gli ambiti dell'informatica che vengono considerati nel nostro corso di laurea. Dobbiamo distinguere fra argomenti che sono più o meno tecnici. Beh, in effetti quelli che noi non consideriamo come argomenti del nostro corso di laurea sono argomenti che sono legati per esempio all'utilizzo di un particolare software oppure specializzazioni tecniche appunto molto specifiche, la gestione di un sito web, dei contenuti in particolare di un sito web, mentre invece altri argomenti che sono un po' più di ampio respiro come per esempio problemi di sicurezza dei sistemi informatici, la gestione di sistemi di impianti industriali o anche problemi di carattere teorico come quello che trovate illustrato al centro di questa slide sono invece nell'ambito di studio del nostro corso di laurea. L'informatica quindi è una scienza, è una scienza che studia i dati come rappresentare ed elaborare i dati e quindi le informazioni che abbiamo. Quindi è una scienza che è basata su teorie che usano appunto insomma quindi dei linguaggi formali per essere rappresentate e che utilizza anche dei metodi che però sono di carattere più ingegneristi. In particolare l'informatica è stata individuata come il terzo strumento che sia per arrivare a una conoscenza della nostra realtà, appunto il terzo strumento oltre al linguaggio naturale e alla matematica. Ok, vediamo allora un po' più nel dettaglio che cosa si studia nel corso di laurea in informatica. Beh allora sicuramente ci sono degli esami di carattere un pochino più teorico, esami di matematica di base, quindi analisi, algebra, eccetera, logica. Ci sono poi, si approfondiscono gli aspetti concettuali e tecnologici e anche pratici, quindi sia nella programmazione, il sviluppo del software, gestione e analisi dei dati, eccetera. Quello che sicuramente non si studia nel nostro corso di laurea sono questioni come abbiamo detto un pochino più tecniche come per esempio montare e smontare hardware, installare le applicazioni o semplicemente navigare internet, usare word per dirci. Gli argomenti che si studiano quindi possono variare da degli aspetti più diciamo teorici sulla teoria dell'informazione ad aspetti più pratici di programmazione o di gestione dei dati. Perché iscriversi all'informatica? Beh sicuramente gli ambiti lavorativi sono tanti, sono in crescita come numero e diciamo anche come varietà. I nostri laureati trovano lavoro molto rapidamente, spesso anche prima di terminare gli studi e sicuramente il corso di laurea in informatica è indicato per tutti coloro che hanno una curiosità verso il mondo scientifico e tecnologico. Perché studiare informatica all'università dell'Insubria? Il nostro ateneo è un ateneo medio piccolo e questo vuol dire che il rapporto tra il numero di studenti e il numero di docenti è ottimale, nel senso che noi possiamo comunque stare vicino ai nostri studenti. Inoltre noi abbiamo dei forti contatti con le realtà produttive del territorio ma anche con aziende a carattere nazionale e internazionale. I nostri docenti sono molto attivi da un punto di vista della ricerca, tra i nostri docenti ci sono delle punte di eccellenza nella ricerca come testimoniato dalla partecipazione a progetti di ricerca sia nazionali che che chiaramente internazionali. C'è un'ottima collaborazione, una connessione tra ricerca didattica e industria e questo ci permette di offrire ai nostri studenti molte opportunità, quali per esempio la partecipazione a seminari tenuti da membri di aziende del territorio ma anche la possibilità di fare dei tirocini degli stagio presso numerose aziende. Allora gli insegnamenti che vengono offerti durante il corso di laurea. Trovate tutto sulle pagine web del corso di laurea quindi se vi collegate vi darò gli indirizzi poi al termine di questa presentazione trovate tutto scritto per bene lì. Insomma tanto per darvi un'idea adesso possiamo mostrare l'elenco degli insegnamenti in questo modo dove possiamo individuare degli insegnamenti di carattere più matematico teorico invece degli insegnamenti di carattere invece più prettamente informatico e anche un laboratorio che permette poi di mettere in pratica alcune delle dei contenuti dei corsi di carattere informatico. Dal secondo al terzo anno c'è la possibilità di scegliere degli esami complementari e gli insegnamenti complementari. L'offerta degli insegnamenti complementari è variabile, varia di anno in anno ma ce ne sono alcuni che la cui offerta si ripete anno dopo anno insomma quindi trovate elencati qualcuno. Se vi collegate al sito trovate poi anche tutte le informazioni relative all'anno di iscrizione. Altre iniziative importanti che offriamo ai nostri studenti sono la possibilità di laurea in apprendistato, dei premi di laurea offerte da aziende a studenti meritevoli e poi la possibilità di partecipare al progetto Erasmus e poi per la laurea magistrale di potersi iscrivere al double degree con l'università di Nizza. Noi offriamo anche un corso di laurea magistrale in informatica interamente in lingua inglese che appunto permette per chi ne faccia richiesta permette di avere il double degree con l'università di Nizza. Abbiamo un test d'ingresso ma un test d'ingresso è un problema che si pone in un secondo momento perché è una valutazione che non è selettiva e viene offerto viene proposto agli studenti che hanno già un numero di matricola quindi sono già iscritti al nostro corso di laurea e un test su argomenti di carattere matematico. Tra le varie attività dell'open day tra le varie iniziative dell'open day abbiamo fissato anche un incontro per parlare proprio specificamente del test d'ingresso. trovate poi tutte le informazioni sul sito dell'atenore. Questi sono gli indirizzi ai quali potete trovare maggiori informazioni sul nostro corso di laurea. Spero di avervi incuriosito e spero di vedervi presto tra i nostri studenti.